musica eccoci qua ragazzi ben ritornati sul mio canale siamo qua con la nona parte di Outlast allora dovevamo cercare una chiave dietro il cinema praticamente nei video precedenti avevamo visto il filmato ma andiamo avanti per ora nell'ultimo episodio ci eravamo ritrovati eravamo rimasti che stavamo anzi avevamo recuperato un documento e da lì proseguiamo è chiuso eh o non fatemi entrare niente per queste parti sicuramente sono molto accogliente bella qua oilà Mannaggia a te Oh Fammi entrare Oh Tacci tua Batteria Qua Ma che cazzo fai? Giochi a nascondino te? Boh Qua? Sì Aspettate ragazzi Intanto ammiriamo questo bel pilastro Facciamo tutto il tragitto Via Bene Ho veramente Via Grande Eccola qua Documenti, batterie Niente Un'aperta Ma se posso Che era chiusa Boh Può andare qua? No Perché sono negato Allora Non so voi Ma mi è parso di aver sentito Il wolf rider Sì Guardate come trema la visuale Cosa vi avevo detto? Ma noi zitti zitti Ma tu proprio lì devi stare Fermo eh Fermo eh Non te muovere Non ti muovere Ma guarda che pezzo Ma guarda che pezzo Oh tu sei Sarato quello stronzo di prima Che mi ha chiuso Eh che palle Oh ma che è qua L'ascensore Che è tutto Sarato qua Oh Attenzione Facciamo Può controllare tutto Ragazzi No Quindi niente Bisogna andare qua forse Di qua E quello Intanto mi sa Dio avevi visto batterie Forse Che non citava qua Oddio Anche un pezzo di braccio No no Batteria Batteria Aspetta Andare di qua Ma che cazzone Sono ritornato Dove ero primo Beh Qua Vabbè Qua che non c'è niente Lì Scemo Potete vedere Che io mi ritrovo Il wall rider Qua sotto Ragazzi Scusate Due secondi Pausa bagno Eccoci qua ragazzi Scusate l'attesa Riprendiamo Ma se non andavo al bagno Rischiavo veramente Di farmi l'addorcio Allora Qua era così Ah ecco Salve Salve scusate l'intrigione Disturbo Niente Aspetta Ritorni pure a Suoto di preghiera Perfetto Qua Bagno Niente Niente Stranamente troviamo Dei bagni Salve Disturbo Sto cercando di ammazzi L'avete visto C'è anche i pantaloncini Niente Ok Salve Madonna come siete religiosi Stasera Salve Salve Ci avete qua qualcosa per me Niente Grazie Oh ma per cui Tu Questa finestra Salve Niente Documento Vedi che sapevo che c'era qualcosa Niente 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 Lo sapevo Batteria Vai Perfetto Quindi È ora di qua Siamo lì Ma tutti in preghiera stasera Tutti buoni Eh sì Sì no Non sono Batman Sono cugino Posso? Oddio Cos'è stasera Cos'è stasera Allora Registriamo tutto ragazzi Cappella La cappella sistrina Salve Oh 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 Ma Voi non erano quelli che mi hanno fatto il culo tre o quattro volte prima No? Posso Non è che mi No Vanno sempre a pisello all'aria Non so Vedi questo Cüngere La pr undertaken Si Qui Vi 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 La Vi Qu Vi Di E poi saremmo liberi insieme Se non mi avremmo guardare qualcosa di buono l'hai fatto Figlio mio Oh si, oh si, oh si L'ha arrostita ragazzi Mamma mia Brutta roba No dai, non fate così veramente Io vengo in pace Non siamo fratelli ma Adesso mi aprite anche la porta Prima mi volevate sgorzare Oh io penso che si debba andare di qua Non lo so Non ne ho idea Ma guarda, sono talmente sicuro che mi trovo il War Rider qui Cosa vi avevo detto? Attenzione Lo passa sulla fascia Nooo 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 Alzzati Uhhh Quindi, quindi, quindi Quindi, quindi Dimmi quando, quando, quando ma ecco perché ragazzi se mi ricordo e qui c'era cosa ove la vai gioppa 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 nooo ti prego lasciami stare niente c'è stato un errore di nel senso che praticamente tu da me che minchia vuoi tu da me attenzione attenzione via 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 mamma mia grande poteroso ragazzo poteroso e dai che si sbaglia ancora vai che saltiamo così grande ma sei un pirlo hai zompa fratello zompa zompa non farmi queste cose qua grande così mi sei piaciuto dove ci mi è da suca mille eccolo qua la scensura ragazzi forse ce l'abbiamo fatta tocca tocca apri apri no dove cacchio mi porto apri ma perché dove mi stai portando nuovo obiettivo cerca un'altra uscita bene ma che cacchio è sto posto registriamo registriamo non ti bloccare non ti bloccare santa miseria cos'è il sembra il simbolo di residentivo dell'ombrella corporation ah ma questo qua è il posto che noi guardavamo tipo da qui dov'è boh una telecamera qua all'inizio quando il tipo ci ha fatto la puntura documento salve mamma mia sempre sempre di più nella merda stiamo andando giorno tutto bene ma che è sta roba qua niente boh qua niente boh bene ma che schifo documento facciamo una cosa importante perché documenti guardate quanti non obiettivi tac memorandum la manutenzione della valvola di scuola è fondamentale per lo spazio degli attori del dottor buon mai troppo silenzio qua dentro qui oh un'uscita oh proviamo ad andare prima qua batteria batteria adesso adesso ne hai unico niente 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 chiedevo andare di là vai scappa scappa cazzo scappa che c'era il coso lo spirito ho visto di là no no non c'è la forcellino non può più ci gira un fantasma fai fargli vedere fargli vedere fargli vedere giuncini no 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 ci eravamo già andate sì guarda qua qua ho sentito delle voci no non no 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 i am supposed to be dead no 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 such luck i am older than sin but somehow the only one left because of billy he takes care of me he may think i'm his father E' sicuramente mi amico, il po' idiota Vedi che questo simbolo rappresenta? Si riconosce di una nanohazardia Le macchine microscopiche Tecnologie che abbiamo avuto per decadere ma non è mai ammazzata Che cos'è? Il propano dietro? Fast and Furious? Così la carrozzina va malata Nonno, se c'è nano e brunetta Nonno 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 Quindi niente, ritorniamo qua Sperando che non ci sia il Fantasmo Formagino Non è qua Non è qua Non è qua Vuoi tornare qua indietro? Beh si Bagno Possibile fare una doccia? Questa è mezza pulita Qua Lei non è andata a buon fine la doccia Qua Niente Niente Qua 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 Batterie Salve E si blocca Niente Niente C'è un bagno peggio che l'altro Ragazzi siete luridi però Eh Ma se viene l'hasl vi chiede tutto Oh Oh No 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 Mh Ma adesso io dico Perché mi devi fare queste cose Lasciami Dimmi che devo andare qua Lasciami No no dove sto andando piccolo cieco No Per fortuna Vai Zompa Zompa non fermarti Zompa non fermarti perché si ti fermi Oh Uuuuuh Non stai andando bene eh Mi stai andando Mi zompi troppi sul pigello Bisogna un documento qua Vai prendi sto documento Intanto lei non serve più Ma qua dove vado Aspetta fammi dire prima qua No devo andare per forza di là No no fai così apri anche l'altra porta Bene così se devo scappare scappo meglio Bene così se devo scappare scappo meglio Che c'è sotto? C'è niente? C'è niente? C'è niente? Materia Mentre Documento Da chi ha schiacciato? No! Prendi documento Non andare di qua? Boh Via è in un altro spazio è serrata la porta Mario oh c'è uno, andiamo a sentire cosa vuole dica buonamo dove essere questo Billy sì sicuramente lui niente non so che l'unico apporto che ho visto è questo dai dai che scon me oh starò tornando indietro non lo so vai a non fermarti vai 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 un altro documento un'altra batteria ah ecco la valgola perfetto no eh sei già qua Billy a romper i coglioni pancilla 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 turno dove ero ma adesso sarà li? si adesso è un via attenzione quanto secondo me ce l'abbiamo alle calcagne a quel pezzo boh via via di qua via di qua vai vai bravo così ti voglio mamma mia ma quanto oggi ne sei io però voglio dire dai grande grande grandissimo epico sei stato epico spichissimo ottissimo ottissimo oh Eliemi vai 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 documento qua vai stacca tutto mamma come mi fa il senso con quelle vita lì come mi fa il senso scappa scappa perché tanto sono sicuro che è qua oh merda no lasciami perché quando sono caduto io sono morto adesso no? vabbè dai sì sì le cose sono proprio coerenti dov'è billy? perfetto registra che mandiamo tutto a barbara di urso aia un croccone eh che cazzo faccio? quanto non fa niente vai alzati beh che dopo ti porto al Mcdonald dai ma cosa ti ho fatto io di male figo mi 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 è entrato dentro oddio oddio mi è entrato dentro oh oh sei morto? no che sfiga di merda oh prendi la cinepresa esch sarà di là dai ehi che sei ridotto male oh dai dovrei morire da adesso che cacchio eh che balle non lo devo andare di là è chiuso ah forse l'è sotto lollo dai con calma tanto io ho c'ho tutto il tempo stasera vai non ti preoccupare tranquillo oh no eh non mi morire qua sulle scale perché dopo tutto sto casino no no dai 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 che fuori c'è la gnocca che ti aspetta dai dai da bravo dai da bravo tanto cosa schiacci a fare? tanto deve solo camminare niente niente dai sciù boh morto no ho decidi allora o muori o vai avanti vedi tu salve eh no no non è come sembra aia 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 no guardi che cioè dopo tutto sto casino ma avete fatto il culo ma avete fatto il culo ma avete fatto il culo il fantasma mi sta ammattando tutti il fantasma che avevo dentro il culo si però dai no è un finale di merda così non va bene ma dopo tutto sto casino andare a morire così sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio nel finale non so voi ma io la penso così almeno dopo tutto sto casino War Rider e questi e quelli morire così alla fine c'è un passo non so mi è piaciuto tutto però al finale così mi aspettavo di meglio sinceramente si parla di un DLC ma non so di cosa si tratta sinceramente non si sa neanche se uscirà se esce non si sa niente so che c'era in preventivo questo DLC un'espansione vedremo niente ragazzi se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e un commento e ci rivediamo presto con qualche nuova serie comunque se avete qualche idea lasciatemi sotto nei commenti se vi può far piacere vi lascio un link in descrizione che sono i ragazzi che hanno fatto il nuovo pad il mio nuovo pad per la Xbox One e se vi può interessare contattate ciao a presto a presto a presto